Il GAL, gruppo di azione locale, quattro parchi, lecco, brianza, ha segnato oltre 3 milioni 300 mila euro a progetti che valorizzano la tradizione agricola del nostro territorio nell'ambito del programma di sviluppo rurale di Regione Lombardia. Il GAL è ormai una realtà affermata sul territorio, afferma il Presidente Pier Giorgio Locatelli. Riceviamo molti riscontri positivi di aziende, organizzazioni ed enti interessati al nostro lavoro e fortemente motivati a partecipare ai bandi per ottenere contributi nell'ambito del nostro piano di sviluppo locale. Con i 3 milioni 337 mila 292 euro deliberati dal GAL è stato superato il 60% dell'intero fondo messo a disposizione del nostro territorio sui finanziamenti europei del programma di sviluppo rurale. Nella difficile fase causata dalla pandemia, prosegue il Presidente, abbiamo prontamente promulgato un apposito bando per dare un'opportunità di finanziamento ad interventi per fronteggiare il Covid. La nostra proposta è stata accolta con enorme successo, ben oltre le nostre iniziali aspettative. È in corso l'istruttoria delle domande ricevute e da breve saremo in grado di assegnare i fondi. Oltre al bando Covid, conclude, ci sono altri quattro bandi in corso di istruttoria per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro. Pertanto a breve l'importo dei finanziamenti assegnato crescerà ulteriormente avvicinandosi al nostro obiettivo, impegnare l'intero montare di fondi destinati al nostro territorio. Grazie. Grazie.